Dopo il Pascal è stato dichiarato inagibile anche l'Istituto Tecnico Comie e l'Iceo Classico di Teramo sono subito al lavoro per la messa in sicurezza della facciata. I tecnici della protezione civile, dopo una giornata di lavoro sulle scuole della provincia di Teramo, hanno dichiarato inagibili per lesioni strutturali l'Istituto Tecnico di Viale Bovio, che ha ospitato, quale sede provvisoria, il Conservatorio Braga. La scuola è già destinataria ad un finanziamento per il miglioramento sismico, essendo fra quelle che la provincia aveva inserito nel piano per la messa in sicurezza delle scuole dopo il terremoto del 2009. Il progetto, circa 1.200.000 euro, servirà proprio a rafforzare la resistenza della struttura. Sopra luogo anche al classico delfico al Convitto, qui è stata confermata l'ineagibilità dell'ultimo piano, chiuso dal sisma del 2009, ed è stata prescritta la messa in sicurezza della facciata. Già da questa mattina la provincia sta provvedendo a transennare la porzione prospicente Piazza Dante e l'ingresso alla scuola sarà assicurato dal portone laterale. Nessun problema dunque all'interno del liceo e le lezioni potranno riprendere regolarmente. Anche in questo caso siamo di fronte ad un istituto destinatario di un finanziamento del piano nazionale Scuole Sicure, 1.167.000 euro, e servirà a sistemare il tetto e a riaprire l'ultimo piano. Così come per il Comi il progetto redatto dalla provincia e all'esame della soprintendenza. Con il monitoraggio e i rilievi della protezione civile, le scuole che necessitano di interventi entrano a far parte dell'elenco di quelle che avranno priorità di finanziamento, spiega il presidente Renzo Di Sabatino. Altro problema è quello della vulnerabilità degli edifici pubblici. Qui dobbiamo attendere il piano nazionale e gli stanziamenti da parte del governo, ma faremo schede puntuali per ogni scuola. Da ieri siamo in contatto con i dirigenti scolastici per le decisioni del caso, così come abbiamo l'amministrazione comunale di Teramo e il presidente del Braga.